Come io faccio parte del collettivo in Francia della campagna di Mélenchon, portavo un testo di come l'unità della destra si è fatta. Buongiorno, avendo partecipato al collettivo per la campagna elettorale di Mélenchon, volevo rendere qui testimonianza di come si è arrivata a questo risultato sorprendente con le recenti elezioni, l'unità della sinistra in Francia. Quindi il risultato delle recenti elezioni è la formazione di quattro blocchi. Abbiamo la sinistra, abbiamo i macronisti, quindi tutto il potere neoliberale, abbiamo l'estrema destra appunto di Le Pen e poi gli assenzionisti, il blocco degli assenzionisti. Il risultato delle elezioni di Mélenchon, delle preferenze per Mélenchon è del 22%. Questo 22% di voti ha permesso poi di creare l'unità della sinistra. Durante la campagna, prima delle elezioni, questo tentativo di creare un rassemblement in unità non è riuscito. Quindi abbiamo Mélenchon 22%, i Verdi 4%, il Partito Comunista 2% e il Trostisi 1,2%, l'insieme ha portato al 30%. Quindi la tecnica che ha permesso appunto questo risultato è stata sempre quella di dividere il problema. Il gruppo di Verdi non è per uscire dall'Europa. Il Melanchon vuole coprire con l'Europa perché è un'Europa di banca, il preferisce l'Europa dei popoli. Ovvero, quindi, è la proposta, il programma di Mélenchon che ha permesso questo risultato. Se i Verdi, per esempio, sono per l'Europa, Mélenchon è sempre stato per uscire dall'Europa. Non ha mai cercato, diciamo, un compromesso. Quindi restiamo in Europa, ma ogni volta che c'è una misura specifica, precisa, neoliberale, noi ci opponiamo. La question che si pose è come abbiamo ottenuto 22% allora che la Francia Insoumise, non sono 7000, cioè il partito della Francia Insoumise, non tratta di 7000 membri. Come abbiamo arrivato a avere 7,5 milioni di voti? La ragione è rassemblerli le persone attorno a un programma. Questo programma è stato elaborato da 400 specialisti nel domenio economico, nel domenio ecologico, nel domenio della salute, nel domenio dell'educazione, nel domenio della femme. Quindi gli iscritti al partito della Francia Insoumise sono appena 7000, ma sono riusciti ad ottenere questo voto creando una prossimità appunto al programma, le proposte da parte dei giovani con specialisti, specialisti nell'ambito dell'ecologia, dei diritti delle donne, quindi del femminismo, delle teorie di genere contro la discriminazione per la giustizia sociale. Quindi è sul programma che si sono basati. E gli specialisti non sono tornati dal cielo. Voi sapete che la Francia ha conosciuto il movimento dei gilet jaunni e il movimento della nuve debù. tutti i giorni alla Repubblica, il y avait almeno entre 200 e 1000 persone che si riunissero per discutere di tutti i problemi della Francia. Gli stessi specialisti, appunto, esperti, non sono caduti dal cielo, ma è stato un processo che ha portato a questo e a partire appunto dal movimento dei gilet jaunni e anche molto prima le notti, nel noi debù, alla Place della Repubblica. Si si incontravano, creavano un luogo di discussione, dei piccoli forum anche appunto cittadini su questi argomenti, su queste proposte. Quindi con queste discussioni non solo si ponevano dei ponti fissi, delle proposte, delle rivendicazioni, ma anche come arrivare a queste, che tipo di soluzione anche dal punto di vista finanziario o budgetale. Il risultato di questo è che tutti i sindicati, i professori dell'educazione, tutti i infirmiers della salute, tutte le organizzazioni femminine, molti dei correnti ecologisti hanno votato per questo programma. Per esempio, il programma ecologico della Francia Insoumise è stato molto più elaborato che il programma dell'Europa Ecologia e Le Verre, rappresentato da Jadot. Quindi il risultato è stato che appunto su questi punti, su questo programma ci sono stati i sindicati degli insegnanti, oppure tutti gli operatori del servizio sanitario, anche i verdi, ecologisti che si sono movimentati, si sono messi in discussione e l'hanno approvato, molto più che per il programma dell'Europa. Grazie. 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 Grazie.